e ciao ragazzi siamo qui ritornati quest'oggi anche su rainbow six age mi raccomando subito un bel pollicino in sopra di vostro carissimo energy direi subito di mettere multigeratore classificata e ci vediamo in game generativo no 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 scusa scusa hai perso il disinnescatore abbiamo il disinnescatore scudo d'assalto mi posiziono disinnescatore va bene i primi due round ci vedo benissimo gg jack che la testa gli ha rotto quello è con mitraglione bello dai sapevo muovi non ce la fa nice e niente ragazzi 4 a 0 ok ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto se fosse così mi raccomando pollice in su commentate e condividete se siete iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo ad un prossimo video e ciao ragazzi